ragazzi un piccolo suggerimento per coloro che si allontanano da casa per più giorni magari per motivi di vacanza di lavoro eccetera eccetera spesso la preoccupazione è rivolta al freezer quindi al congelatore ed al suo cibo contenuto all'interno può accadere che magari durante la nostra assenza per guasti dovuti al fornitore alla rete elettrica eccetera eccetera magari abbiamo un ammanco di energia per sole 24 ore quindi il cibo potrebbe scongelarsi e ricongelarsi nuovamente nel momento in cui l'energia verrà ripristinata nella zona eccetera eccetera senza ricorrere a diavolerie suggerite da alessio di cristoforo smart lab 3d mania riparazione computer smartphone potete fare con un metodo molto semplice molto economico e soprattutto affidabile quindi prendete un bicchiere di plastica lo riempite con un po d'acqua fate congelare poi prendete una monetina e la mettete sul ghiaccio il bicchiere potete depositarlo nel vostro congelatore al ritorno dalle vacanze prendete il bicchiere verificate che la monetina sia poggiata sul ghiaccio in alternativa è mancata la corrente elettrica e poi è tornata quindi il cibo si è scongelato e poi ricongelato troverete la monetina non sul ghiaccio ma sotto il ghiaccio non so se si vede bene dalle immagini ma penso proprio di sì insomma ricapitolando se tornando dalle vacanze il la monetina rimane poggiata sul ghiaccio così come vedete in questa immagine vuol dire che l'energia elettrica non è mai mancata o meglio potrebbe forse anche essere mancata ma non sufficientemente da per giudicare la qualità del cibo nel congelatore se invece al vostro ritorno la monetina non c'è più ma è sul fondo del bicchiere vuol dire che il ghiaccio si è sciolto la moda la monetina è precipitata sul basso e poi c'è stato il ricongelamento dopo magari 24 o 48 ore insomma un metodo pratico semplice che mi è stato insegnato da quando ero ragazzino da un valido tecnico che odierne ovviamente potrebbe sostituire in maniera del tutto affidabile anche le diavolerie che alessio di cristofaro offre con dispositivi legati ad internet smartphone sensori eccetera eccetera un saluto a tutti buona giornata